Radiato definitivamente dall'Ordine dei Medici di Teramo, il ginecologo originario di Pratola Peligna Roberto Petrella, noto per le sue posizioni critiche in particolare sul vaccino antipapillomavirus HPV, a darne notizia sui social è stato lo stesso Petrella che ha reso noto che il provvedimento dell'Ordine professionale è diventato definitivo. Non mi hanno voluto far parlare si era difeso Petrella per ripetere le stesse cose che avevo detto al Presidente dell'Ordine dei Medici di Teramo in passato, sulle quali avevo fornito una ricca documentazione precisa. L'unica mia colpa è quella di aver consultato testi acquistabili in onnimi libreria e aver consolidato concetti utili all'informazione. Non esiste radiazione se esiste la verità scientifica. Il ginecologo Pratolano, che nel gennaio 2022 era stato arrestato per le cure alternative per un paziente Covid e poi deceduto, annuncia ricorso. Qua si può mettere una parte del suo video su Facebook. Sono io, il radiato dal Ministero della Salute. Sono l'uomo più felice del mondo. Perché? Perché verrà fuori la verità. Ma prima di far venire fuori la verità bisogna soffrire, quello che mi sta succedendo a me. Ma è una sofferenza felice, non preoccupante, veramente felice. Io ho la coscienza tranquilla. Prima bisogna soffrire, poi bisogna sorridere perché la verità verrà fuori.